Sappiamo che in questo periodo c'è da sudare, fare fatica perché veniamo anche da mesi di inattività a causa del coronavirus, però stiamo lavorando bene per farci trovare pronti per l'inizio del campionato. La grinta di un ventenne e l'esperienza nella categoria di chi ha già giocato un'annata da titolare con l'Olimpia agnonese nel girone F di Serie D con 23 presenze e 3 reti allo stop del campionato. Manuel Minacori ha le idee chiare per la Fidelisandria che vivrà la stagione 2020-21 che il club bianco-azzurro sta preparando nei primi passi nel ritiro di San Giovanni Rotondo. Nella trafila di annunci di mercato di stagione, Minacori è stato con Giuliano il primo degli arrivi. Il giovane siciliano è consapevole delle proprie qualità in campo. Sono un esterno d'attacco, mi piace giocare palla al piede, le mie caratteristiche migliori sono il dribbling, la rapidità, la velocità. Però sono a disposizione del mister e quello che mi chiede il mister faccio. Alla sinistra, a suo agio in un 4-2-3-1 e in un 4-3-3, Minacori è esordito in Serie C nell'Akragas con 10 presenze tra i pro, prima delle esperienze nella primavera del Palermo e del Perugia con una quindicina di presenze all'attivo. Dopo la tappa di Agnone e il lockdown non ha avuto dubbi sull'offerta della Fidelis. Non ci ho pensato due volte a sposare questo progetto perché so che Andria ha una bella piazza, ci sono grandissimi tifosi, c'è tanta ambizione e abbiamo voglia di riscattarci dal campionato scorso. Mentre la squadra guidata da Gigi Panarelli suda sul terreno del Massa, per la dirigenza della Fidelis è stato tempo di un saluto istituzionale e di ringraziamenti. Il direttore finanziario Pietro Lamorte e il DS Riccardo Di Bari sono stati ospiti a Palazzo di Città del sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti, omaggiato con una targa ricordo e un gaiardetto per sancire un gemellaggio dal vero molto sentito. Nel logo del comune noi troviamo la città dell'accoglienza e della riconciliazione, quindi l'accoglienza significa anche far trovare pronte le strutture, far trovare pronte la città per offrire i servizi affinché tutti i loro visitatori dai pellegrini o come la squadra della Fidelis a cui faccio i migliori auguri per il prossimo campionato.